Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa dodicesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di videogiochi e cronaca. Direte voi cosa c'entrano queste due cose assieme, adesso vi sarà tutto più chiaro. Questa settimana come ben sapete c'è stato in un ruolo che ha parzialmente distrutto la cattedrale di Notre Dame di Parigi, a seguito di questo infausto evento si è avuta una mobilitazione internazionale per quanto riguarda una raccolta fondi per ricostruire la cattedrale. Tra questi anche Ubisoft ha contribuito alla ricostruzione effettuando una donazione, ma non si è fermato soltanto a questo. Ha deciso di omaggiare la cattedrale e fare un regalo a noi tutti utenti. Come? Se ben ricordate qualche tempo fa ha rilasciato un gioco chiamato Assassin's Creed Unity, un gioco interamente ambientato in Francia. All'interno del gioco è presente anche una ricostruzione, ovviamente in 3D, della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Da quell'idea di Ubisoft di fornire, rilasciare gratuitamente Assassin's Creed Unity per PC per tutti coloro che faranno richiesta di accesso dal 17 aprile al 25 aprile. Vi basterà aver scaricato Uplay e richiedere una copia gratuita del gioco. Tutti quanti avranno così la possibilità di vivere la maestosità e la bellezza della cattedrale seppur in forma digitale, aspettando che appunto venga ricostruita. Una volta scaricato il gioco, il gioco rimarrà nella vostra libreria, quindi non ci saranno problemi per poterci giocare successivamente. Una bella iniziativa da parte di Ubisoft. Passiamo adesso a quello che riguarda il mondo del browsing internet. Il prossimo 14 maggio verrà rilasciato Firefox 67. La grande novità di questo rilascio è che mostrerà Firefox 67 nella barra degli strumenti un'icona relativa al profilo utente dell'account che noi abbiamo utilizzato per le funzionalità di sincronizzazione del browser. Praticamente è la stessa cosa che avviene già adesso su Google Chrome, quindi avremo il nostro cerchietto con il nostro avatar cliccandoci da sopra è possibile accedere alle funzionalità di sincronizzazione. Sia se non l'avete fatto, quindi il pulsante verrà proposto per impostazione predefinita per tutti e quindi ci inviterà a effettuare la registrazione per le funzioni di sincronizzazione e sia per quanto riguarda se noi siamo già utenti che utilizziamo le funzionalità di sincronizzazione. Una volta abilitata le funzionalità di sincronizzazione, tramite quel pulsante sarà possibile richiamare alcune funzionalità, verrà mostrato per esempio l'indirizzo email che noi abbiamo scelto per le funzionalità di sincronizzazione e poi verranno mostrate alcune funzionalità tipo l'invia schede, la gestione dell'account, le impostazioni di sincronizzazione e quant'altro. È secondo il mio avviso una scelta intelligente da parte di Mozilla perché molti utenti non conoscono questa funzionalità di sincronizzazione tra dispositivi e quindi diciamo così saranno adesso invogliati a provarla e a utilizzare questo servizio che è molto comodo. Alcuni però già stanno criticando questa scelta perché diciamo così continua quella che viene chiamata la cronizzazione di Firefox, cioè di mutuare aspetti dell'interfaccia di Google Chrome perché come ben saprete su Google Chrome da qualche release a questa parte l'avatar con le informazioni dell'utente è stato spostato nella stessa modalità, quindi nella barra principale degli strumenti ed è sempre visibile. A mio avviso però comunque è una polemica inutile perché comunque è una funzionalità interessante quella della sincronizzazione e posizionare la gripia a mio avviso è molto comodo e utile. Passiamo adesso ai rilasci veri e propri. È stata rilasciata LibreOffice 6.2.3, si tratta della terza versione di bug fixing del ramo 6.2 e il ramo fresh quello di LibreOffice, quello diciamo dedicato agli entusiasti, quindi sconsigliato nell'uso aziendale dove si richiede l'utilizzo della versione Stig, quella diciamo più stabile e quant'altro. LibreOffice 6.2.3 non è ancora, mentre vi sto parlando, disponibile nel PPA ufficioso di LibreOffice, PPA ufficioso quel PPA che viene mantenuto dal team di LibreOffice di Ubuntu che rinasce gli aggiornamenti costanti del ramo fresh, tramite il PPA aggiuntivo appunto, è ufficioso perché appunto non è gestito direttamente dai tizi di Document Foundation. Se voi volete una versione ufficiale dovete andare a scaricare i DEB o gli RPM dal sito ufficiale o in alternativa provare le versioni i Snap o i Flatpak. A voi la scelta. Passiamo adesso al rilascio delle KDE Application 19.04. Questa settimana c'è stato un grande rilascio da parte del team di KDE che è rilasciato con una nuova versione delle applicazioni base che fanno parte di KDE. Tante le novità. Sono stati aggiornati Dolphin, Kdenlive che ha visto praticamente il 60% del codice riscritto, Ocular di cui vi avevo già parlato la scorsa settimana per quanto riguarda le funzionalità di verifica delle firme digitali, K-mail, K-organizer, K-itinerary, KATE, l'editor di testo, console, che sarebbe l'emulatore di terminale di KDE, localize, when you, come cavolo si pronuncia qualcosa, visualizzatore di immagini, spectacle tool, che serve per fare gli screenshot, e qui due programmi, KMplot, che è un plot di funzione matematica, e KOLF, che come lascia intendere il nome, è il KOLF in miniatura di KDE. L'aggiornamento è arrivato già su KDE Neon, ed è disponibile anche in formato SNAP. Il team di KDE ha deciso di rilasciare il giorno zero, praticamente il giorno del rilascio delle KDE application 19.04, ha deciso di fornirla anche sotto forma di SNAP, quindi tutte quante le distribuzioni che supportano gli SNAP possono installare facilmente le KDE application senza avere problemi di dipendenza e quant'altro, quindi possono installare fin da subito. Ed è, a mio avviso, una grande cosa quella fatta dal team di KDE. Ultima notizia della settimana, vede il rilascio di Ubuntu 19.04 disco dingo. Questa nuova versione porta principalmente novità prestazionali per quanto riguarda l'edizione principale, perché vede l'arrivo di GNOME 3.32, che ha ottimizzato il codice e rende GNOME molto più prestante rispetto al passato, specie in presenza di driver Nvidia. Altra novità dell'edizione principale è che adesso è stata introdotta un'estensione che consente di aggiungere il supporto alle icone sul desktop e che quindi consente di poter aggiornare Nauticus all'ultima versione. Nelle versioni passate su GNOME veniva mantenuto Nauticus alla versione 3.26, che era l'ultima release stabile di Nauticus, che consentiva il supporto alle icone sul desktop. Adesso non viene fatto più questo, Nauticus è allineato con la versione principale, quindi era 3.32, in verità 3.32.1 perché hanno aggiornato nel frattempo, e quindi il problema è stato risolto grazie all'aggiunta di questa nuova estensione che va a ripristinare la funzionalità di icone sul desktop. Vi avevo anche già parlato di questa cosa in un mio precedente podcast, ma trovate anche un articolo su Marcosbox dove ho parlato della bellezza di Ubuntu 19.04 con GNOME. Sono state ovviamente aggiornate anche le edizioni frameworks ufficiali, Ubuntu vede l'arrivo di Plasma 5.15, KD Application 18.12.3. Ubuntu vede l'arrivo del ragionamento all'ultima versione stabile del LXQT, il desktop environment di Ubuntu, Ubuntu Bagi ha visto l'arrivo di Bagi desktop 10.5, NEMO che va a sostituire Nautilus come file manager, i fonti di sistema che adesso sono Ubuntu, e Firefox che è il browser predefinito. Ovviamente è stata aggiornata anche Ubuntu Key, la versione cinese di Ubuntu, non mi soffermo sui dettagli, sulle novità di questa release, perché non è una edizione che normalmente noi utilizziamo, Ubuntu MATE rimane a MATE 1.20, seppur alle ultime, diciamo così, minori resi di 1.20, non è stata fatta il passaggio a 1.22 per questioni di compatibilità di alcuni plugin che non sono compatibili con MATE 1.22. Maggiori informazioni che ho trovato nel mio precedente articolo al riguardo. Ubuntu Studio vede il rilascio della nuova versione dell'Ubuntu Studio Installer, che consente di installare i metapacchetti di Ubuntu Studio su altri firewalls ufficiali, quindi se volete utilizzare Ubuntu potete installare, diciamo così, tipo i kernel real-time e altri tool di Ubuntu Studio direttamente su Ubuntu. Infine, su Ubuntu, che ha visto in questa release alcuni pacchetti che sono spariti, tipo Orange, Calendart, e l'arrivo nell'aizo finale di GIMP è di LibreOffice. GIMP in particolare era dalla 15.04, non ricordo male che mancava, era stata tolta tra i programmi pre-installati che pre-installava su Ubuntu e adesso il team ha deciso di reintroduclo, quindi non ci sarà più bisogno di installarlo a parte, anche perché diciamo, GIMP è uno dei primi programmi come uno installa quando installa una qualsiasi distribuzione Linux. Bene, questa è ora l'ultima notizia della settimana, colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri per una felice Santa Pasqua, per chi ci crede, per chi non ci crede, comunque passate comunque delle belle giornate in questi giorni, vi auguro di trascorrere in serenità, in salute, in allegria e quant'altro. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo con la prossima puntata la prossima settimana. Ciao ciao!